Roberto Figo ha una sua candidatura per le prossime regionali, una candidatura di rottura rispetto ai grandi partiti e rispetto soprattutto al PD e al PDL. Certo, è una candidatura di rottura ma è una candidatura di cittadinanza, di cittadinanza vera che insieme, unendosi, bypassa i partiti e ritrova la vera forza di stare insieme per un futuro totalmente diverso in Campania. Che futuro volete, che futuro prospettate per la Regione? Un futuro di autosufficienza energetica con l'abbattimento di tutte quante le bollette per tutti i cittadini, un futuro dove ci sia l'acqua veramente pubblica, un futuro dove ci siano finalmente tutte quante le bonifiche dei territori senza il cambio di investitazione ed uso, un futuro dove ci sia la vera trasparenza nei consigli regionali con le riprese webcam, dove ci sia la tracciabilità vera dei fondi europei e dei fondi nazionali che arrivano in Campania e che non risolvono mai nessun problema. Un movimento, quello di Beppe Grillo, che in un periodo era vicino a Italia dei Valori, non si poteva raggiungere un accordo con la lista di Di Pietro? Non è stato mai un movimento vicino a Italia dei Valori. Beppe conosce Di Pietro, si sono sentiti magari su dei temi, ma il partito è una cosa totalmente diversa dal movimento e non c'è stata mai nessuna unione tra il movimento e il partito. I temi che abbiamo noi sono i temi che tutti se ne possono appropriare, come se ne è appropriata Italia dei Valori e speriamo che tutti, in un analizzamento della qualità generale e totale della politica e dell'umanità, se ne appropriino.